ragazzi e ragazze bentornati ci troviamo di nuovo qui su football manager 2022 con il nostro caro e tanto amato stirling albion mister trevor hawkins from the button to the top dalle stelle alle stalle praticamente le stalle in cui si stanno dalle stalle alle stelle contrario scusate il le stalle in cui stiamo navigando in questo momento si chiamano molto stalle in maniera vabbè così scherzosa la league scozzese quindi la quarta divisione scozzese di quattro selezionabili ricordo che c'è la litte la league one la championship e la premiership un po come funziona in inghilterra in inter più profondità ma vabbè con un altro discorso dove eravamo rimasti la scorsa volta la scorsa volta rimasti che andando a vedere calendario avevamo giocato la l'ultima partita con di albion rovers 2 a 0 e avevo presentato la fine del mercato qualche movimento possibile ora andiamo a vedere con la fine del mercato che movimento effettivamente abbiamo fatto gli svincolati sono ancora acquistabili ad adesso sono ancora acquistabili quindi possiamo ancora muoverci nell'ambito di prestiti svincolati quantomeno lì ho giocato due partite la prima col forfare atletic ragazzi è finita uno a uno abbiamo sempre il solito problema qui non l'abbiamo dominato nonostante abbiamo giocato in casa abbiamo fatto un solo tiro in porta contro i sette dei nostri avversari il valore di expected goals però molto alto per entrambi perché abbiamo creato un'occasione da gol chiara loro due il possesso palla è stato più o meno così giocato fino alla fine noi abbiamo subito un po all'inizio vedete qua gli expected goals a partita abbiamo subito un po all'inizio poi verso la fine del primo tempo in inizio del secondo abbiamo giocato molto meglio però purtroppo questo è il discorso è che ormai è da un po di partite che non so potere che si sta salvando la pelle pure potere degli avversari detto sinceramente stiamo giocando più o meno bene più o meno male è un nì per quello che vedo io creiamo tantissimo ma non riusciamo a realizzare stessa cosa si può dire per la battita vinta però edinburgo contro l'edinburgo edinbursidi esatto l'abbiamo giocata la però l'abbiamo vinto una zero con un gol di ray grant favoloso che se è possibile io vorrei far vedere perché è stato un gol bellissimo intanto nel frattempo vi ne approfitto per chiedere di lasciare il like e commento e l'iscrizione se avete ancora fatto guardate qua cosa combina da fuori aria utile agir grandissimo ray grant ha fatto un gol incredibile ci ha salvato la partita come vedete molti ammuniti per la squadra avversaria non abbiamo creato così tanto all'inizio dopo siamo saliti veramente in cattedra e fare un gol è stato veramente poco perché comunque 13 tiri su tre importa sembra sempre molto pari la situazione ma quello che vedo io c'è quello che mi fa vedere il gioco è un un bel gioco da parte nostra non riusciamo a concludere ora ci troviamo di fronte al camo e messo purtroppo dato il pareggio che abbiamo appunto realizzato contro for farate non siamo più primi ma siamo secondi e un punto dal primo ed è proprio e come vi ho preannunciato nella scorsa episodio questo sarà il grande la grande la grande sfida diciamo di inizio campionato per decidere la vetta se perdiamo perde rischiamo di perdere un treno o comunque di essere un po più in difficoltà nella prima posizione che è la qualificazione diretta che la promozione diretta alla quale vorrei raggiungere sinceramente se vinciamo invece ci diamo un altro tocco in più al nostro a nostra costruzione appunto della promozione diretta nel frattempo siamo stati sorteggiati per la scottish cup secondo turno il 23 ottobre contro i bachi che è una squadra semiprofessionista di divisione inferiore non sono messi malaccio ho già guardato quindi occhio ma sono di una divisione sotto la nostra quindi pretendo un grande risultato qua ci chiedono di raggiungere terzo turno minimo quindi dobbiamo vincere questa partita per star tranquilli per star tranquilli detto questo gli acquisti che abbiamo fatto scusatemi si possono riassumere non in realtà nulla di fatto la squadra titolare è rimasta questa però ho acquistato qualcuno per la nostra squadra under 18 che in realtà non sono diciottenni ma sono più grandi ma non sapevo dove piazzarli come vedete non abbiamo una squadra riserve o comunque under 18 di sviluppo sono tutta gente generata in automatico dal gioco assolutamente inguardabile ho acquistato quindi per cercare di migliorare la situazione sandy carry che quella punta che avevamo preso a per fare un provino non si è rivelato malaccio 19 anni è venuto a 0 a 0 euro quindi non paghiamo niente rimane qua finché ci va vediamo se riesce a migliorare perché non è ancora di tutto pronto questo è il nostro portiere con or care che sta anche lui crescendo sono contento che se anche lui prende 300 euro l'anno di poco niente joshua burke che è quell'altro difensore che abbiamo preso per quattro spicci 2000 euro all'anno 2100 euro all'anno però non è ancora pronto per la squadra abbiamo acquistato questi due scott che sono i due che abbiamo avevo fatto vedere nello scorso episodio per quanto riguarda i i provini niente di che però sono giocatori che vanno tra i 1500 e 3000 e tra le 0 e 9 mila euro quindi potremmo anche eventualmente prenderli a zero e usarli come cassa questo ragazzo scott bluva prende 850 euro all'anno e te calmo prende qualcosa di più 6 mila euro ma sempre all'anno quindi pochissima roba le nostre finanze non sono state intaccate di molto il budget degli ingaggi assolutamente tranquillo non c'è nessun tipo di problema alcuno non so se faremo altri operazioni di mercato per adesso gestiamo la cosa così com'è è successo un piccolissimo problema per quanto riguarda kylie banner che chiede di andar via andrà cercherà di essere di arrivare al svincolo del contratto alla fine di quest'anno e di non farsi rinnovare è un peccato perché era un buon prospetto non era il nostro titolare che se qualche partita l'ha fatta a questo punto è un peccato perché dopo 77 presenze con lo sterling gaming dal 2016 che è qua da quando proprio un ragazzino quasi ban poco più che bambino se ne è voluta andare così semplicemente perché abbiamo rifiutato un'offerta assolutamente sotto il suo valore da parte di una squadra della stessa divisione si è incazzato e abbiamo detto va bene ti svincolano a fine a fine contratto tanti saluti abbiamo i sostituti non è un problema ora siamo a come vedete alla riunione tattica contro il caon berson io qua di solito schifo molto bellamente tutto quanto va davanti la formazione l'ho già sistemata è così carri a sinistra le watson lo facciamo rigiocare ragazzo flatman e mcgregor flatman che ha preso un po' il posto di cammings nelle gerarchie di difesa voglio utilizzare e sfruttare il suo prestito a questo punto maggi c che invece titolare fisso a sinistra adesso scusatemi centrocampo assolutamente sudato ray grant e cartis roberts sono loro i due che gestiscono la nostra mediana esterni alti e molto veloci il nostro campione di lambichi e quale johnston l'altro che abbiamo preso in passito tempo nell'ultimo episodio scusatemi il telefono che ha suonato poi in attacco carrick e film malcolm che è l'altro ragazzo che mi ha preso in prestito non ancora riuscito a fare gol di lambichi che macchina che l'altro bomber è un po troppo lento i gusti quindi va bene così rimettiamo con no care qua come sostituto va benissimo magari cammings lo metto a posto di banner a questo punto se ne va anche lui fuori dalle balle è una squadra lunga profonda come vedete stanno giocando molto bene nelle ultime forme in ultime uscite molto molto bene quindi confermiamo la formazione e andiamo lo so che ci sarà qualcuno che sarà farà fatica a finire la partita ma non è un problema signori dai 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 questa partita la vediamo insieme questo episodio sarà lo scontro al vertice braccia di steno stringiamo i pugni come qualcuno di voi sa e facciamo spesso e volentieri quando alleniamo al nostro machine labba ultimamente stiamo andando bene continuiamo così non ci caga nessuno molto bene parole al vento e cominciamo sarà un episodio magari un pochino più lungo perché la partita è con diretta estesa come come si chiama qui la cosa sintesi estesa quindi vedremo spesso azioni che non porteranno a nulla qua vedo che già sono in attacco i nostri avversari ma è ma buraiolo ma rimanciamo lungo vediamo se che riesce a tenere su palla molto bene vediamo se riesce a buttare in mezzo questo contropiede buona vediamo johnston in mezzo in mezzo giusto 1 0 grande contropiede ed è il primo gol primissimo gol con gli sterling il mio nel nostro acquisto in prestito riesce a segnare subito al primo occasione incredibile occhio però occhio alla penna stiamo giocando in casa ma questi sono arrivati arrivano come primi classifica quindi non saranno qui a fare una gita di piacere ancora una volta che ci fa capire che un grande potere lo dobbiamo assolutamente mantenere un'altra parata incredibile di carri questo inizio di partita scoppiettante sono passati solo tre minuti è incredibile è incredibile altro cross attenzione qui punizione a fallo in attacco molto bene meno male wow inizio super importante da parte delle due squadre che qua siamo al top della lega quindi dobbiamo assolutamente confermarci là dove vogliamo arrivare ora vediamo questo cross questo calcio d'angolo di johnston palla in mezzo vediamo gregor 2 a 0 dello sterling incredibile 14 minuti alto calcio d'angolo attra situazione da parla da fermo che non riusciamo praticamente mai a realizzare ma signori si vede che nel nel fare il video portate bene la vostra presenza virtuale siamo 2 a 0 molto bene vediamo becchi ancora una volta che erica ancora roberts nostra mediana lavora molto bene picchi e pop in un arretrato doveva essere proprio avanti no grant ancora carico il terzo in mezzo per molto ma eccolo lì quello che avete visto è l'uno contro uno che succede molto spesso e in questa lega sbagliano spesso da entrambe le parti purtroppo il valore tecnico è quello che è gli uno contro uno che di norma significano sempre gol ma quasi purtroppo che significa quasi sempre non gol va bene peccato peccato vediamo calcio d'angolo dei nostri avversari che sono sempre vivi però occhio 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 a lasciare un attimo di spazio a questi qui che ne approfittano subito sono effettivamente primi campionati sono marcom incredibile lo scatto la finta palla che deve finire in mezzo non arriva diamo becchi in mezzo ancora per carrick troverso di carrick giosto ancora lì in area piccola attenzione passa indietro per me ghi ci cosa abbiamo sbagliato ragazzi il mio dio mio cuore poi ghi ci spara a caso o mio dio traversa meritavamo 3 a 0 e potevamo mettere non dico la partita in ghiaccio lezione che si è fatto male qualcuno qualcuno ha preso una botta ci è arrivata una notifica o jordan mcgregor si è fatto male potenziale infortunio alla coscia limitato dall'infortunio proprio lui proprio l'autore del secondo gol allora vediamo vediamo come va vediamo come va vediamo come va l'azione se vedo che troppo in difficoltà lo sostituiamo assolutamente non possiamo permettercelo assolutamente vediamo mai di palle in mezzo per parte su me ghi ci reagisce vediamo che aric contropiede lezione che deve lanciare marco ma attenzione marco ancora johnson giusto un po lanciare i due di attacco no la porta in avanti sulla destra con la giusta un palle in mezzo che avevo il tiro parati incredibile incredibile di gil portiere avversario di cowl e beat grande parata mamma mia mamma mia direbbe qualcuno ma vabbè vediamo se è recuperato dall'infortunio più o meno è limitato dall'infortunio non capito questo limitato cosa mi stia significare prima non troppo limitato calcio in angolo johnston malcom non riesce ancora a trovare gol malcom con la nostra con i nostri sterling abbiamo pazienza non c'è fretta ci sono più di 30 partite ancora davanti non johnston palla con la macro non ci arriva se mi chi la raccoglie però parla ancora in mezzo per watson che ha rischiato il tiro ha fatto bene perché rischiamo di prendere contropiede lì è comunque riusciamo a gestire la situazione mcgregor lo vedo comunque ancora in gestione magari li faccia finire il primo tempo a questo punto e prendiamo una sostituzione nel secondo per non rischiare troppo abbiamo comunque la possibilità di sostituirlo senza troppo fatica nella galloway thompson per essere versari grant anticipa molto bene vediamo marcom sulla destra sulla destra marcom ancora perché forse era meglio girare dall'altra parte per biki però va bene vediamo che ha ripagato in mezzo proprio per biki che la mette lì roberts primo tiro riviato secondo tiro parato stiamo giocando incredibilmente bene ragazzi sono super felice della prestazione dei nostri incredibile ancora palle in mezzo ribattuto biki vediamo cosa riesce a gestire a biki sulla in mezzo palla indietro palla che finisce l'azione io sono assolutamente stupefatto dalla dalla prestazione dei nostri sterling stanno giocando da dio non vedendo benissimo stanno giocando benissimo bravissimi tutti quindi braccia distese finora aveva fatto benissimo sono stra felice potenziale allora lo togliamo mcgregor mettiamo cammings vediamo adam cammings che non è esattamente una gran cima ma è comunque un 12 10 con po scarsa posizione un po lento si abbiamo fatto abbiamo rischiato ma dato non avevamo troppo troppo altra soluzione diciamo teniamo questo rischio rischiamo incrociamo le dita e andiamo fuori così però se riusciamo così a impedire un infortunio più grave al nostro difensore titolare più bravo ben venga assolutamente ben venga non inizio già a perdere tempo siamo comunque in equilibrata mi sta benissimo continuiamo così perché secondo me toccare qualcosa adesso potrebbe fare solo più che danni questo è un bel passaggio medici non ci arriva la qualità dal torne è un po quella che è ragazzi è un po quella che siamo via verso cinquantesimo nel secondo tempo 2 0 ancora in gestione il nostro sterling stiamo giocando bene comunichiamo di dare di più perché domandiamo sempre di più bisogna sempre dare di più per lo stile ma mai abbassare la guardia se può stare sveglia attenzione contropede ma mamma mia che rifà una grandissima uscita avevamo la banda del buco lì in mezzo fa flatman e cammings attenzione ancora galloway si infila qua un'altra gran parata di peso pugno piede non lo so di cari che si guadagna su 7,9 su 7,07 poter avversare a sette e mezzo quindi vorrei ben capire stanno facendo poi di cambi sostituzioni stanno cercando di trovare una quadrino se avversari occhio alla penna perché potrebbero trovarci impreparati vediamo thompson ora ancora provano prova come vita a riaprire la partita veniamo con mardi colson lasciato libero tiraccio bruttissimo mancino incrociare finito lontanissimo dalla porta noi dobbiamo fare qualche cambio però aspettiamo la punizione vediamo che trova per flatman in mezzo no pensavo ci fosse a no fuorigioco addirittura di flatman complimenti a fuorigioco su calcio da fermo ok allora dobbiamo fare qualche sostituzione perché flatman è stanco ma a questo punto non ho più cambi dietro da vorrei poter mettere mac niff ma un po rischioso ma a questo punto rischiamo anche perché ha munito quindi non vorrei non vorrei esagerare gli altri stanno tutti più o meno bene magari carrick vuole il cambio gli metto macchina e vediamo come va il ragazzo e proseguiamo così abbiamo fatto il doppio cambio ora possiamo procedere fino a fine della partita bruttissimo passaggio in questo caso di non ho visto bene chi prendiamo contropiede no ok ci siamo riposizionati bravi ora iniziamo a perdere un po di tempo magari perché non è non è accettabile essere riprendere la partita così attenzione per bar rimessa dal fondo tiro che finisce alto di poco e questi qua iniziano attaccare attenzione thompson doveva accettare un po di pressione secondo me ancora thompson patterson mandì ancora a destra su thompson lasciato solo nessuno lo marca giustamente meno male che mandi tira in bocca che la blocca bravissimo ora cerchiamo di far perdere un po di tempo i nostri compagni ai nostri ai nostri uomini non dobbiamo assolutamente più rischiare niente e dobbiamo stare proprio tranquilli cerchiamo domandiamo concentrazione che la concentrazione perché devono essere rimanere svegli di testa i nostri la prendono tutti molto male però al 20 si può ribaltare in un attimo in un lampo però signori non si ribalta al 20 la prestazione dello stirling al bion è stata favolosa è stata favolosa noi riusciamo a gestire la partita vediamo se arriviamo con un team sheet si perché buccia non ci arriva mc niff chiude il lancio fuori misura la recupera thompson ancora bar morrison gli ultimi secondi di partita perché finirà tra 20 secondi bar perde palla rimessa laterale per noi che prendeva ovviamente tutto il tempo del mondo arriviamo ai tre minuti di recupero sono scaduti già in questo momento e non buccia nana non finisce la partita l'azione finisce la partita sterling elbion 20 sul caudan bill grande risultato e anche qui ragazzi 25 tiri di cui 10 nello specchio hanno giocato molto anche loro 13 quindi tiri di cui sette non abbiamo creato caro occasione da gol nessuno dei due mi sembra assurdo abbiamo avuto al possesso un ottimo percentuale di passaggi completati un ottima percentuale di contrasti vinti di abbiamo vinto la partita secondo me anche in contraste aerei una media voto decisamente migliore la nostra che risette e mezzo come la come potere avversario vi dico i portieri qua sono molti importanti ma compilio sette e mezzo anche se non riesce a portare a casa la pagnotta con il gol vediamo se infortunio di mcgregor sia è veramente importante braccio distese ben fatto i ragazzi si sono conquistati la prima posizione in campionato signori siamo primi in vetro l'alizio chi l'avrebbe mai detto infortunato a eccolo lì mannaggia al signore otto giorni due settimane perderà penso un paio di partite stiramento al bicipite femorale fisioterapia non facciamo infiltrazioni perché sennò è peggio poi ma assolutamente assolutamente la conferenza stampa pre partita post partita ve l'assalto arriviamo agli saluti finali del video per ormai la partita abbiamo conclusa per trarre le somme per il prossimo episodio ok ragazzi siamo sul calendario che normalmente la fine diciamo degli episodi di football manager lo sarà come consuetudine l'inizio è la home page andremo subito poi a fare il giro sul calendario per concludere poi sul calendario come detto grande prestazione dei nostri contro i cowden beef ora ci aspettano delle prestazioni importanti noi ci vedremo nel prossimo episodio contro i curti hearts che sono come pronostico dei media primi quindi sono quelli che dovrebbero essere primi questo momento sono quarti quindi sono lì una squadra tra l'altro di non troppo antica formazione anche loro vediamo giochiamo da solo contro l'elgin city che per adesso ottavo su dieci non ha messo benissimo non star che sono addirittura non in questo momento però queste due partite farò la partita di scottici cup contro i bacchi e poi andremo e ci vedremo contro i curti hearts in questo modo pressa poco in questo pressa poco modus operandi avremo un episodio d'ottobre una novembre una dicembre una gennaio una febbraio una marzo e una d'aprile c'è altri sette episodi e questa carriera per la prima stagione andrà a concludersi né se no che magari a gennaio ne facciamo di più per il discorso acquisti per il mercato di riparazione e magari poi ad aprile affronteremo anche il fatto che non giocheremo niente aprile a praticamente 14 luglio insomma una pausa abbastanza importante di qualche mese vedremo signori noi ci diamo appuntamento al 30 ottobre 2021 partita con ticoli hearts io vi ringrazio grazie per aver seguito fin qui vi ricordo di lasciare un like un commento e descrizione se non avete ancora fatto da terra 39 tutto da mister treva l'optisi hopkins in quel di stirling è tutto alla prossima ragazzi ciao